Il teatro stabile di Catania penalizzato dalla politica regionale. Questa è la denuncia che arriva da CGL Cisle Will dopo il taglio del 34% dei contributi deciso dal governo Lombardo e l'ulteriore meno 20,5% voluto dal governo Crocetta malgrado impegni precedentemente assunti. Come spiegano i segretari SLC Fisle Will Com, in queste condizioni sono state pregiudicate in maniera ingiustificatamente pesante le possibilità operative dell'ente che sono finalizzate alla salvaguardia dell'identità sociale e culturale e alla promozione del patrimonio artistico. Si sta creando un campo di battaglia politico intorno alla cultura soprattutto non regionale ma del territorio di Catania. Quindi a noi non piace assolutamente questo attacco ai teatri, al teatro stabile in particolare e quindi vogliamo subito un incontro per pianificare e chiarire molti dubbi che ci sono stati naturalmente sui giornali e sulla stampa in questo periodo. Cosa dire? Non c'è più tempo, il taglio è stato esageratamente pesante e quindi prima che muoia veramente la cultura teatrale in questo territorio bisogna darsi una mossa. I tre sindacalisti si dichiarano dunque indignati per questi tagli operati nelle segrete stanze dell'Ars e soprattutto perché pochi onorevoli hanno veramente a cuore la sorte del teatro e dei lavoratori. I sindacati chiedono una riforma seria per quanto riguarda i teatri siciliani. In attesa di questa riforma alla quale è sempre interessata l'assessore al ramo, noi chiediamo che siano mantenuti i finanziamenti così come erano stati previsti l'anno scorso. Purtroppo vi è una indifferenza assoluta, cambiano i governi regionali ma l'atteggiamento non cambia. Le dichiarazioni del Presidente della Regione sono assolutamente pretestuose perché il teatro stabile è stato sottoposto a dei controlli molto severi e i controlli ministeriali hanno dimostrato che questo teatro ha dato grossi risultati sul piano culturale tant'è che a livello nazionale vengono erogati dei finanziamenti sulla base di valutazioni serie e concrete. Quindi noi ci auguriamo che il Presidente della Regione possa su questo avere un momento di ripensamento e ripristinare i finanziamenti dell'anno precedente quantomeno. Dopodiché siamo disposti a qualunque confronto per la vicenda complessiva.